Sono Tonella Saccone, docente di Italiana e Storia all'Istituto Paolo Frisi di Milano, insegno nel corso sociosanitario, sono referente per l'inclusione nell'istituto. Io sono Emilia Manelli, 17 anni e frequento il quinto anno del corso sociosanitario. Io sono Greta Gironi, 17 anni e frequento il quarto anno del liceo economico sociale. Sono Romina Petriglia, 18 anni e frequento il quarto anno del corso economico sociale. Sono Edoardo Cariero, 18 anni e frequento il quarto anno del liceo economico sociale.